buongiorno ragazzi oggi volevo cantare con voi una canzoncina molto conosciuta che abbiamo fatto anche a scuola che viene fatta con i gesti ed è quella dei due liocorni allora attenzione se non vi ricordate guardate la prima volta e poi i tornelli successivi li fate insieme a me d'accordo pronti ci sono due coccodrilli ed uno rango tango due piccoli serpenti un'aquila reale il gatto il topo l'elefante non manca più nessuno solo non si vedono i due liocorni un di noè nella foresta andò e tutti gli animali volle intorno a sé il signore è arrabbiato il diluvio manderà la colpa non è vostra io vi salverò ci sono due coccodrilli ed uno rango tango due piccoli serpenti un'aquila reale il gatto il topo l'elefante non manca più nessuno solo non si vedono i due liocorni e mentre salivano gli animali noè vide nel cielo un grosso nuvolone goccia dopo goccia a piover cominciò non posso più aspettare l'arca chiuderò ci sono due coccodrilli ed uno rango tango due piccoli serpenti un'aquila reale il gatto il topo l'elefante non manca più nessuno solo non si vedono i due liocorni e mentre continuava a salire il mare e l'arca era lontana con tutti gli animali noè non penso più a chi dimenticò da allora più nessuno vide i due liocorni ci sono due coccodrilli ed uno rango tango due piccoli serpenti un'aquila reale il gatto il topo l'elefante non manca più nessuno solo non si vedono i due liocorni benissimo ora provate a rifarla anche voi insieme a me ciao alla prossima